Benvenuti, siamo ora qui con Matteo Brucoli, Head of Sales di Abilio. Benvenuto. Grazie. Allora, direi di cominciare per chi non vi conoscesse, raccontando chi è Abilio e in che modo puntate a crescere il mercato immobiliare italiano. Abilio è la società del gruppo Illimiti che si occupa della gestione dei processi di vendita di beni mobili ed immobili, tanto distressed quanto performing. La storia della società è abbastanza lunga perché è riconducibile a una start-up nata nel 2011 che si chiamava IT Option e che ha iniziato a occuparsi di immobiliare nel 2013 gestendo la vendita di beni provenienti da procedure concorsuali per controlli tribunali. Il mutatis mutandis abbiamo iniziato poi a lavorare su prodotto a libero mercato, ma distressed, quindi proveniente da contratti di leasing risolti o rimpossessati e poi con soggetti come corporate o la grande distribuzione che dovevano gestire la liquidazione di patrimonio immobiliare. Quindi diciamo che abbiamo iniziato a lavorare nel mercato distressed, poi ci siamo avvicinati per aprendo dei mercati contigui verso il libero mercato. L'ultimo passaggio è stato fatto nel 2021 ad aprile con il lancio della nuova piattaforma che si chiama Quimmo, quimmo.it, che è un portale di listing che riporta e propone al mercato e qui c'è il punto di innovazione, una visione del mercato immobiliare come di un mercato unico in cui la provenienza del prodotto, se distressed, performing, la procedura con cui si può presentare un'offerta, quindi se è una procedura competitiva oppure una trattativa privata, sono aspetti che vengono lasciati un po' in secondo piano, mettendo al centro il prodotto e la ricerca del compratore. Questo perché pensiamo, abbiamo una visione del mercato immobiliare come di un mercato unico in cui il focus dovrebbe essere sulle caratteristiche dell'asset e non sul processo per acquisirlo. Anche perché sappiamo che l'utente ha come interfaccia principale appunto l'asset. Sappiamo anche che i crediti non performanti hanno avuto una forte evoluzione negli ultimi anni. L'industria italiana probabilmente si potrebbe anche dire che non esisteva fino a 10-15 anni fa, poi c'è stata una professionalizzazione continua. Quindi a fronte di un'offerta abbastanza ampia sul mercato, cosa vi rende unici? Beh, ci rendono unici alcune caratteristiche strutturali, quindi di tecnologia, in primis il portale, quindi un listing e un portale di proprietà con una visibilità e una capacità di lead generation molto specifica e molto ampia, un processo interamente digitalizzato di gestione del prodotto, dall'acquisizione, l'onboarding, la lead generation, fino poi alla parte di transaction e poi degli aspetti invece di expertise che abbiamo maturato nel corso di questi 12 anni di operatività. C'è una forte expertise sul prodotto di stress e una forte expertise sul prodotto non residenziale. Abbiamo detto quindi quali sono gli ambiti di specializzazione, invece guardando alla tipologia di targhe di riferimento vi rivolgete anche al libero mercato delle compravendite? La prendo un po' larga questa. Diciamo che se lo guardiamo lato compratore, fin dal primissimo momento ci siamo rivolti ai compratori che stavano cercando prodotto sul libero mercato, mettendoli in condizione di valutare anche prodotto di stress, semplificando i processi di bid, facendo molto data enrichment sul prodotto e quindi ampliando, cercando di mettere in condizione chi sta cercando un immobile, di valutare anche una parte di prodotto che normalmente viene quasi esclusa a priori, se non da compratori un po' più evoluti o specializzati. Lato invece venditori, abbiamo approcciato il libero mercato, sì, facciamo intermediazione, prima confrontandoci con venditori strutturati, financial institutions, fondi, corporate, che avevano bisogno a monte di una commercializzazione efficace, anche di una capacità di analisi di portafoglio, di gestione del processo di vendita, non solo line by line, ma nel suo complesso. Con il lancio del portale, del nuovo portale ad aprile del 21, abbiamo aperto anche alla possibilità, ci siamo aperti anche alla possibilità di dialogare con invece i venditori retail, quindi persone che hanno prodotto da vendere e che cercano un processo di commercializzazione digitale, sempre rendicontabile, riportabile in maniera puntuale in ogni suo momento, con delle metriche sempre accountable. E questa è un'attività che è la nostra frontiera attuale, lo stiamo sperimentando su alcune zone d'Italia e con un riscontro positivo. Cioè c'è una porzione di venditori che sta cercando un modello di vendita, un modello di liquidazione del proprio prodotto diverso, più digitale e più direttamente controllabile anche da loro. Nel momento in cui vi rivolgete quindi al cliente finale, c'è spazio per gli agenti immobiliari? Riformulo la domanda, ci sono occasioni di collaborazione nel vostro business con questi professionisti? Tantissime, questa mattina sentivamo che in Italia ci sono, che operano nel mercato immobiliare 50.000 mediatori iscritti che non transano il 100% del transato. Ovviamente non abbiamo, il nostro obiettivo non è sostituirci ma collaborare. Pensiamo che con tutti quegli agenti immobiliari che hanno due aspirazioni sostanzialmente o due interessi, due interessi. Uno, abilitarsi ad operare nel mercato unico immobiliare. Quindi un mercato che non è fatto solo di residenziale performing, ma è fatto di residenziale non residenziale, performing e distressed. e mediatori, agenti, che sono interessati a partecipare ad un processo, a collaborare, a partecipare in un processo di vendita digitale. Con tutti questi le porte sono aperte. Proviamo un po' a specificare, quindi essendo un processo di vendita digitale, l'agente immobiliare che, diciamo così per sentire comune, è colui che ti apre le porte a casa fisicamente, cosa può fare? Beh, allora, in un qualche momento, in un qualche brainstorming aziendale abbiamo anche accarezzato l'idea di digitalizzare tutte le porte dei 5.000 asset che abbiamo in gestione con una serratura intelligente e poi, no, cioè il presidio sul territorio serve, è fondamentale, in due fasi. Sicuramente in una fase acquisitiva, perché non pensiamo che esistano solo venditori interessati a interfacciarsi con un portale per concedere il mandato. I mandati devono essere perfezionati, devono essere perfezionati in un appuntamento di acquisizione in cui si salda il rapporto fiduciario con il consulente e lì rimarrà, per quanto digitalizzeremo e per quanto possiamo far avanzare i nostri processi, questo rimarrà un business di persone. Nella fase di vendita, invece, ecco, diciamo che se l'agente immobiliare si limita ad aprire le porte è sostituibile, ma sappiamo che nella maggior parte dei casi non è questo il suo contributo e l'appuntamento di vendita è un altro momento assolutamente chiave che non può essere digitalizzato, ma non avrebbe neanche senso, ma in cui la presenza sul territorio di un consulente credibile e preparato è assolutamente chiave per chiudere i deal. Quindi diciamo che tra queste due fasi c'è molto che può essere fatto da una struttura centralizzata, digitale, fatta di processi e che soprattutto sia in grado di raccogliere anche tutte le informazioni che arrivano da chi opera sul territorio durante i contatti con i clienti in fase acquisitiva, durante i contatti con i clienti in fase di vendita e poi riportarli in reportistica e contarli. Poco fa ha detto che questo è un business di persone. A prima vista potrebbe apparire paradossale perché è uno dei comparti più interessati dall'evoluzione della tecnologia, il cosiddetto PropTech, però poi, proprio nel momento in cui la tecnologia diventa di uso comune, sono le competenze, quella a cui hai fatto riferimento all'inizio quando hai parlato dei vostri elementi distintivi, che consentono di scegliere tra uno per l'altro. Assolutamente sì, cioè è un po' come Lance Armstrong provava la sua bicicletta, la sua bicicletta era disegnata in un laboratorio che lavorava anche per la NASA, c'era tantissima digitalizzazione, ma non abbiamo mai e nessuno ha mai pensato che il ciclismo potesse essere digitalizzato. È un po' questo. Adesso è una parola che va di moda e che a me non piace tantissimo, però il figital, per quanto il figital è davvero la chiave di lettura corretta per far evolvere un lavoro, un processo che può esistere anche con un foglio di carta, una matita, ma lo possiamo rendere molto più efficiente, molto più efficace, veloce, e efficace e veloce se tutte le parti in cui il contributo, le competenze delle persone non sono chiave, vengono gestite in maniera procedurale, digitale e quindi più semplici.